C'è una maleduncazione. Fate qualcosa. Sette ambulanze del 118, un'automedica bloccate al pronto soccorso del policlinico, vita di tutti i giorni. Succede un grave incidente in via Nicolai, pieno centro di Bari e l'ambulanza più vicina è quella che è costretta ad arrivare dalla postazione di Carbonara. Problemi di sbarrellamento, problemi di mancanza di personale, infermieri, ausiliari, la situazione è davvero di emergenza. Le telecamere, buoni, grazie. Allora, viene con me il centimetro. Chi ha autorizzato il signor a ripresa le quali telecamere? Lasciate i nominativi, chiamo il primario per piacere. Oramai sono anni che andiamo avanti con questo discorso di sofferenza, i numeri sono sempre quelli, 250-300 pazienti al giorno. Facciamo un esempio che vi ho detto prima, dolore addominale. Per fare una diagnosi di un dolore addominale, vuoi fargli almeno un'ecografia che la facciamo noi, quarto d'ora di tempo? Vuoi fare un prelievo per vedere se questo c'è i globuli bianchi aumentati? Rammento che per avere degli esami di laboratorio completi qui da noi, come in tutti gli altri pronto soccorso, i tempi di attesa sono due ore, due ore e mezza rispetto a tre giorni da un laboratorio anche della ASD. Ma quelle due ore e mezza ci sono. Indubbiamente il paziente la legge come un'attesa, ma non è un'attesa inutile, perché nel frattempo farà la flebo. Allora, questo piccolo esempio, moltiplichiamolo per 250 o per 300, che sono i nostri ammalati al giorno, che sono i 140 del San Paolo, i 100 del di Venere, perché quelli sono i numeri. Molti soccorritori si lamentano del fatto che non solo al Policlinico, ma in tutti i pronto soccorsi della città, ci siano dei problemi di sbarrellamento e quindi è successo oggi, per esempio, il caso concreto. Posso raccontare un aneddoto che mi ha raccontato un medico del 118, intervista telefonica, mio marito è morto, l'arresto cardiaco, correte, correte, arriva là, lo trova con la valigetta pronta, dice signora, ma sta scherzando, se non dicevo così non venivate subito. Successo, reale. E sono i nostri codici bianchi, cioè la puntura di insetto, che bastava andare in farmacia per la pomatina, che vengono qui al pronto soccorso. Per il problema dello sbarrellamento invece? Sì, è un problema nazionale, avete seguito, avevamo sentito in Lazio due giorni, tre giorni, in un'ambulanza bloccata. Il problema è legato alla carenza di posto letto. Allora, se io nel pronto soccorso devo mantenere delle persone in attesa del posto letto, oppure in attesa di altro, chiaramente le mie barelle sono occupate, per cui non ho la possibilità di spostare su una barella il 118. Questo però avviene sempre per le situazioni di mezzo, cioè non quello banale-banale, perché banale-banale sta su una barella e poi si sposta su una sedia. E avviene, non avviene per i codici rossi, perché chiaramente un traumatizzato deve restare su quella barella fin quando non si fa tutto, e anche il 118 lo sa assolutamente, avviene per le vie di mezzo. Sì, però non possiamo metterlo seduto, però manca la barella. Allora ci sono i nostri osiliari che girano e chiedono, si rendono conto, vedono un giovane su una barella, si rendono conto, non so che dirle, il polso. Dicono, guardi, non è che lei può stare seduto e cedono la barella. Purtroppo è un problema nazionale. Resta la sofferenza comunque del personale, di alcune attrezzature. La sofferenza del personale, assolutamente sì. È possibile fare dei numeri su quanto personale manca negli ospedali? Allora, negli ospedali non lo so, ci sono grosse carenze. Noi qui al Policlinico abbiamo come personale medico, per fortuna intero, però non è il personale medico. Sono gli infermieri. Assolutamente, infermieri e personale auxiliario, che è quello degli accompagnati. E soprattutto, ecco, questa è la grossa sofferenza del Policlinico, gli autisti. C'è un altro enorme problema che fa un pochino, devo dire, arrabbiare l'utenza. E questo non posso assolutamente dargli torto, perché per definizione noi diciamo, per abitudine, manca l'ambulanza. Sbagliando, noi non dovremmo dire manca l'ambulanza, che le ambulanze le vedono fuori. Manca l'autista. Però, per noi, diciamo, non c'è l'ambulanza. Allora la persona esce, scome, ci sono sei ambulanze lì fuori. Scusi, signore, ho sbagliato. Non manca l'ambulanza, manca l'autista. C'è una grossa carenza, stiamo con, mi sembra, una decina di autisti in meno, siamo una quindicina di infermieri in meno, qualche ausiliario in meno, medici no, siamo. Però, ripeto, il medico è quello che ti fa la visita. Però, quell'operatore che poi ruota, gira, non dimentichiamoci mai, l'utenza non lo deve dimenticare mai, che purtroppo siamo l'unico ospedale avanzato, però a pluripadiglioni, a padiglioni separati. Ed questa è una tragedia. Questa è una tragedia, perché chiaramente significa che anche la banale fratturina che deve andare in ortopedia ha bisogno di un'ambulanza che faccia la spola avanti e dietro. E questa è una realtà.